Ciao bellini e benvenuti e ben tornati sul mio canale, il video di oggi sarà l'ultimo video decluttering della lunga serie di decluttering della mia postazione make up Ebbene si siamo arrivati finalmente alla conclusione di tutto questo infinito decluttering, ormai siamo alla quarta puntata di questa serie di video E oggi andremo a declutterare insieme tutti i prodotti base, dai fondi alle cipre, prodotti in crema, prodotti in polvere, di tutto che ho all'interno di un cassetto E insolitamente per la prima volta sul canale, ma visto che questa serie di video decluttering vi sta piacendo davvero molto, non mi dilungo e vi lascio al video Ma come sempre vi ricordo di iscrivervi al mio canale per sostenerlo e di attivare la campanellina per non perdervi nessun nuovo video Eccoci qua, l'ultimo cassetto dedicato ai prodotti make up all'interno della mia make up collection Parliamo appunto di tutti i prodotti per la base e andiamo a declutterarli ora insieme Il primo decluttering che mi viene da fare sicuramente è questo spray di NYX che è il Dewy Finish Che mi è piaciuto davvero tanto ma è terminato quindi lo posso declutterare Questo invece è Glow to Go di Essence, questo ne ho ancora dentro un po' e rimane qui all'interno della make up collection con gli altri Spray, andiamo a vedere gli ultimi spray che ho, ho anche questo di Revolution, Hyaluronic Fix con il quale mi trovo davvero molto bene Di questo ne ho ancora parecchio, penso proprio che lo ricomprerò e ve lo voglio consigliare anche a voi Di Revolution poi ho anche la base Fix che è finita e che anche questa penso ricomprerò perché mi sono trovata davvero molto bene Quindi teniamo questi due spray Passiamo agli altri prodotti Qui ho una delle mie cipre preferite di Maybelline In realtà è più un fondotinta compatto con il quale mi trovo davvero benissimo Ne ho ancora un pochino all'interno della confezione e rimarrà decisamente qui Questo di Avon è un fondotinta in polvere Anche questo rimane qua perché lo utilizzo spesso Soprattutto adesso che arriva il periodo estivo andrò a utilizzarlo di più perché preferisco la base in polvere in estate L'Air World poi ho anche questa cipra, la Deluxe È una cipra illuminante Come vedete ha dentro sia il pigmento viola che il pigmento giallo Il pigmento giallo andrà a spegnere il verdore o il troppo freddo di alcuni fondotinta Mentre il viola va a illuminare E questa cipra anche lei è molto buona e mi trovo davvero molto bene Di Avon poi ho questa che utilizzo in estate perché è molto scura Ed è la Salming Effect di Avon appunto Il colore come vedete è molto scuro per il mio incarnato classico Ma in estate la utilizzo molto specialmente per non dover sostituire tutti i fondotinta E appunto la abbino a fondotinta più chiari per andare a uniformare l'incarnato con la bronzatura Ho anche questa vecchia confezione di cipra di cipra in polvere libera di brochet Che è finita e andiamo a declatterare Pena ultima cipra che vi mostro questa di Kiko Con il quale mi sono trovata anche lei molto bene Ed è l'Invisible Touch Anche lei ce ne ho dentro proprio una goccia Come vedete è appena sarà finita Non credo che andrò a ricomprarla Devo essere sincera con voi Invece la Lace di Revolution Makeup London Che è questa cipra in polvere libera dal colore molto molto banana Ma perfetto per il mio incarnato È una sicuramente tra quelle che preferisco e che andrò sicuramente a riacquistare Passiamo ad altri prodotti Qui ho il mio unico illuminante di Mulac Non mi ricordo qual è mai Vado a controllare per sicurezza Non mi ricordo il nome e non c'è scritto sulla cialda Però è assolutamente uno dei più venduti In assoluto Se mi viene in mente magari poi ve lo lascio scritto qui Comunque anche questo è consigliatissimo Come quest'altro illuminante di Barberi Che purtroppo adesso vi aprirò la confezione E come vedrete è distrutto Però non riesco a declatterarlo Perché è veramente veramente stupendo È un illuminante perfetto per il mio incarnato Specialmente quando sono abbrondata E poi che dire del packaging di Barberi Non si può assolutamente dire niente Perché è un packaging stupendo Ultimo illuminante è il Duochrome di NYX Questo era nella colorazione Twilight Tint E questo invece è un illuminante molto freddo E che è dato il mio incarnato Specialmente nei mesi più freddi dell'anno Quelli che quest'anno praticamente non abbiamo assolutamente vissuto E questi erano gli unici illuminanti che ho E quindi non andrò neanche a declatterarli Perché sono gli unici che sono rimasti all'interno della mia collection Qui di fianco poi ho messo tutti i miei blush Ho questo in polvere cotta diciamo di Pupa Ed è il Luminis Fard Cotto Effetto Velluto Questo mi piace davvero tanto L'ho usato poco però mi piace molto Abbiamo i Matte Touch Blush di Essence Ne ho in due colorazioni Anche questi dei blush che uso davvero molto E l'ultima ovviamente la California di Benefit in mini size Visto che comunque questa è quella che uso di solito quando viaggio Perché il California è presente anche nella palette di Benefit Che voi sapete ho viso Last blush poi ho questo di Zaloran Che è il Touch Blush Nella colorazione più porcellino che potevate immaginare Ed è davvero un colore stupendo Poi il pack di Vista Loran è davvero una cosa pazzesca E anche questo spesso me lo porto in viaggio Poi è adattissimo per l'estate Di bronzer non ne ho molti Ho la Hoola di Benefit che anche questa la utilizzo per i viaggi Come vedete è bella scavata E in ultimo questo duo di NYX Di cui da una parte ho la terra E dall'altra l'illuminante Che vi devo dire sinceramente questo lo uso pochissimo Specialmente in estate perché il triangolo della terra Ed è veramente molto scuro Mentre l'illuminante come potete vedere l'ho davvero intensamente utilizzato Perché mi è piaciuto parecchio Passiamo ai fondi Visto che delle polveri ho fatto poco decluttering Posso ammetterlo Ma come vedete in realtà ho veramente poche cose Ho giusto appunto queste sei ciprie E queste polveri colorate Per andare a creare contour e illuminazione Blush sul viso Passiamo ai fondi Basi e correttori Perché sono abbastanza mischiate all'interno di questo cassetto Poi probabilmente cercherò di sistemarlo al meglio Quando sistemerò effettivamente il cassetto Abbiamo di Revolution Il Conceal and Define Con il quale mi trovo davvero molto bene Anche se tende a seccare molto La pelle Quindi state attente magari Se andate a fissare con la cipria Ad utilizzare davvero pochissima Ho questo matitone illuminante di Kiko Di una collezione estiva Se non mi sbaglio dell'anno scorso Sì dello scorso anno Contouring Pencil Highlighter Nella colorazione 01 Nagio Leari Poi abbiamo anche questo correttore Che è uno veramente dei correttori che più adoro Ma come vedete all'interno ormai non ce n'è più Quindi andiamo a declatterarlo Il packaging poi è stupendo Rose Gold Con tutti questi fiorellini Secondo me è veramente Nagio Leari ha una cura dei dettagli Che è davvero pazzesca E fortunatamente ho Una profumeria proprio qui di fianco a casa Che rivende i loro prodotti E quindi Penso che in questi giorni Mi farò un bel regalo E andrò a fare un giro E acquisterò Questo correttore di nuovo Sempre se lo troverò Speriamo Ho un correttore per minimizzare i rossori di Kiko Questo praticamente è nella mia collection da sempre È ancora un prodotto completamente funzionante Perfetto specialmente per quando avete qualche rossore da brufolino Che volete spegnere Di Nars Poi un po' rotto come vedete Abbiamo il Velvet Matte Foundation Stick Un altro prodotto che ho molto utilizzato Però quello che vedete ancora dentro è tantissimo E lo sto prelevando con il pennello Per andare a utilizzarlo Giusto appunto nelle zone in cui ho bisogno di più coprenza Perché è un fondotinta correttore a mio parere È molto più correttore che fondotinta Abbiamo una confezione nuova qui di farsali piena Quindi questa rimane qui C'è il Fit Me di Maybelline Nella colorazione 105 Che è un colore che utilizzo tantissimo Specialmente in questo periodo Ce n'è ancora un pochino all'interno del pack Quindi penso che andrò a consumarlo Prima di ovviamente andare ad acquistare altri fondi Di Collistar Poi ho il fondotinta più primer uniformante Questo è un pochino scuro per il mio incarnato di adesso Questo perché l'ho comprato appunto lo scorso estate Mamma mia Come sono bianca Vedete la differenza Ed è un fondotinta con il quale mi trovo davvero benissimo Lo scorso anno mi sono trovata davvero molto bene Speriamo che essendo passato un anno non sia cambiata la formula L'SPF 15 all'interno è fondamentale appunto specialmente in estate Ecco va shakerato C'è anche scritto dietro shakerare prima dell'uso E io ovviamente mi sa che tutte le volte non leggo bene Così posso farvi anche vedere meglio il colore e il texture È un fondotinta leggero Ma che va davvero a uniformare perfettamente l'incarnato E avendo questa base primer all'interno Leviga tantissimo i pori Beh non è neanche così tanto distante dal mio colore di pelle che ho adesso Perché un pochino mi sono già abbronzata Poi abbiamo questa combo di revolution Sempre del conceal and define fondotinta però Dove ho il colore F2 e F3 Perché li devo mixare Purtroppo non c'è una mia vera shade di questo fondotinta Però comunque è un fondotinta molto molto economico Pensate che costa circa sulle 12 euro Quindi ne ho acquistate due confezioni per creare il mio perfect match Le utilizzo sempre insieme quindi penso che le finirò contemporaneamente Di base poi ho anche questa di Barbary Che è una delle mie basi preferite Purtroppo sta quasi terminando Però questa dà un effetto illuminante pazzesco al viso Liscia la pelle e la rende veramente molto vellutata Abbiamo poi di Nabla il close up concealer Ne ho due Questo è di backup ed è ancora nuovo qui pieno E questo è quello che sto utilizzando La mia colorazione se vi interessasse è Ivory È un correttore veramente stupendo Io credo che ogni persona che lo prova poi se ne innamora Ed è poi soprattutto di Nabla Un'azienda italiana che va sostenuta Ricordiamo di cercare di sostenere il nostro commercio Ovvero il commercio dei brand italiani Almeno per quanto riguarda il makeup ragazze Perché comunque noi abbiamo dei brand Che fanno dei prodotti che sono davvero stupendi Parliamo di Nabla Parliamo di Mulac Parliamo di Astra Che ultimamente si è rivoluzionata tanto Parliamo di brand che comunque meritano Sicuramente il nostro appoggio e sostegno in questo periodo Quindi cerchiamo di truccarci italiano Poi di Revlon abbiamo questo stick Che sto utilizzando tantissimo in questo periodo Infatti se vedete è un po' messo male Perché l'altro giorno l'ho preso dentro E purtroppo mi si è sfasciato un po' Questo lo sto utilizzando tantissimo in questo periodo Perché non truccandomi Cerco di dare un po' di brivo e di vita A questo viso spento Della Gaia Con questo bellissimo stick Che è un bronzer illuminante Con tantissime perlescenze Che io applico semplicemente Nelle zone dove voglio creare un po' di contouring E vado a sfumarlo poi Verso tutto il resto del viso Per darmi anche un po' di colore Abbiamo poi il Pur Blur Che è un primer perfezionante È un primer levigante E illuminante Di Revolution Makeup L'ho provato un 5-6 volte ragazze Quindi non so dirvi bene Se sia un prodotto del quale Mi sono innamorata Però vi posso dire che bisogna stare molto attenti Ad applicarlo con la base Bella asciutta Quindi non applicatelo su una crema Che si sta ancora asciugando Perché sennò fa tutti quei classici pallini siliconici Che andranno a sgretolarsi sotto il makeup Correttore Abbiamo poi Lo Stay All Day Di Essence Questo correttore Ne ho addirittura tre Questo è un backup Non è quello iniziato Questo è quello iniziato È un correttore che uso da anni Mi sono trovata benissimo Ma probabilmente adesso andrà fuori Non verrà più venduto da Essence Verrà riformulato Qualcosa del genere Perché quando sono stata ad Igotà Li ho trovati A 3 euro E quindi lasciarli lì Per 9 euro Ne ho presi 3 Così almeno non ho la scorta Anche perché li uso davvero tantissimo Di Sephora poi Ho il mio correttore High Covery Concealer Ed è nella colorazione numero 20 Anche questo rimane Perché appunto Lo sto finendo E mi trovo davvero benissimo Ho nei View Me Up Uno dei primer Che più vi ho fatto vedere Qui sul canale L'abbiamo usato anche in alcuni tutorial Tutorial trucco In cui vi mostravo cose semplicissime Ragazzi voi sapete che io non sono Quella che fa i trucchi eccentrici Però questa base Ve la voglio davvero consigliare Specialmente per chi ha le pelli secche Questa base È stupenda Dentro a delle perlescenze dorate Che danno anche una luminosità Alla pelle fantastica Io però penso che i primer di NYX Siano i migliori in commercio Di quella che ovviamente È la fascia low cost Poi abbiamo questo fondotinta In realtà è uno smart skin Fondotinta Azione equilibrante SPF 8 Scurissimo Questo qua è veramente Un colore molto scuro E lo utilizzo come adattatore Dei fondotinta Perché essendo molto liquido Appunto Cioè Non ve lo apro Perché questo drop Quando lo apri Fa proprio uscire le gocce È un fondotinta Molto liquido Mi permette di andare a Intensificare La tonalità Dei miei fondotinta Quindi se sono troppo chiari Andare a scurirli un pochino Per ora abbiamo eliminato Un po' di cosine Ma neanche troppe Di NYX Poi abbiamo Lo stay matte But not flat Che è un fondotinta Che vi ho fatto vedere Tantissime volte Qui sul canale È un fondotinta Con il quale mi sono sempre Trovata molto bene Però diciamo Che ce ne sono altri Migliori in commercio Specialmente questo È un fondotinta Adatto alle pelli Miste Misto-grasse E per me Non va sempre bene Cioè dipende Purtroppo ho dei problemi Molto strani Con la mia pelle A volte è secca A volte è un po' mista Cioè se sono in casa Non fare niente Tutto il giorno Probabilmente avrò la pelle secca Se mi sono stressata Se sono andata in giro Specialmente se vado a Milano E in posti così La mia pelle diventa Super super grassa E questo tipo di Effetto Di pelle grassa Mi rimane per più Di una settimana Di solito Quindi un bel po' Questo poi è il correttore Di Peggy Sage Rosato Ce n'è ancora dentro un po' Lo utilizzo Per appunto Correggere le occhiaie Lo prelevo con il pennello Quindi anche se ce n'è dentro Ancora molto poco Lo utilizzerò E lo finirò Di questo Se non mi sbaglio Ne avevo due Che però Questo qua appunto È quello finito Quindi possiamo andare a Declatterare Questo correttore Di Peggy Sage In stick Con il quale mi trovo bene Se dovesse per caso Provarlo Fatemelo sapere In una stories Taggatemi E ditemi anche voi Cosa ne pensate Perché è stata Una strana Prima volta Io non ho mai Usilizzato Il correttore in stick Non fanno parte Di quello che è Comunque Il classico Prodotto 2020 Il correttore in stick Ormai non si usa Quasi più Ma questo è davvero Morbidissimo Una volta che l'avete applicato Sulla pelle Si scalda Si scalda Versatile Comunque Comunque Utilizzo Tanto Specialmente In questo periodo In cui dobbiamo Rimanere in casa Ed è nella tonalità E questi erano Tutti i prodotti Che rimangono Nelle casette Della base Come vedete Non ne ho così tanti Anche perché in questo periodo Ne ho finiti parecchio Che sono stati declatterati Prima di questo Declattering Di oggi Quindi penso che andrò Nei prossimi giorni A fare Un po' di acquisto Di prodotti Della base E perché no Magari ci farò Anche un video haul Eccoci qua Con la parte Più sbagliata Più strana E più in confusione Della mia collection Che è La skincare Come vi ho detto Ho fatto un casino Nel senso che Pensavo di poter mettere Qui tutti i viorotti Della skincare Ma poi mi sono resa Conto che non ci stanno E quindi Boh Alcuni sono finiti qua Alcuni sono finiti Nell'ultimo cassetto Che non vi ho mostrato Che è quello che contiene Tutti i prodotti nuovi Quindi mai aperti Quindi che non andrò di certo A buttare Qui sicuramente Ci sarà da fare Un bel declattering Partiamo subito Partiamo subito con il primo cassetto Qui dentro ho Il mio Glow Tonic Di Bixi Beh ne abbiamo ancora un pochino Non troppo Però ce n'è ancora un po' Poi abbiamo Sempre quest'altro Tonico Illuminante Con sempre dentro Il 5% Di acido glicolico Dell'azienda Erika Domiani Quindi un'azienda italiana Che è un brand Con il quale mi sono trovata bene Anche per altri prodotti Skincare Non penso di averli ancora Penso di averli terminati E quindi non li vedrete Ovviamente nelle declattering di oggi Della linea lip care Di Mulac Poi abbiamo anche Il loro Scrub Labbra Uno dei prodotti Che adoro di più Di Mulac Perché è buonissimo Non solo come scrub Perché ha un effetto Effettivamente Che va a ridurre Tutte quelle che sono Le pelliccine secche Eccetera eccetera Ma è buonissimo Ha un sapore stupendo E quindi sulle labbra Lascia un gusto Davvero Incredibilmente buono Qui ho ancora L'iswatch Del cassetto precedente Ragazzi Non fateci caso Invece qui abbiamo Quest'altro lip scrub Questo è Dell'azienda Di Primark Makeup Che è PPS Puntini 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 Che non ho mai capito Qual è il nome La pronuncia perfetta Perché chiamarlo Pss Non mi sembra carino Però Questo è un prodotto Che mi sono mangiata Ragazzi Nel vero senso della parola Era anche commestibile Tra le altre cose Questo lip scrub E sapeva di zucchero Ed uva Era buonissimo Mi ricordava un sacco Quei burro cacao Quelle cosine Che erano tanto di moda Negli anni 90 E quindi quando io ero piccola Questo però purtroppo Va reclatterato Rimettiamo via le cosine Anche se già vi dico Che sono sicura Non resteranno qui Sappiatelo Perché tutta la collection Cambierà posti Verrà sistemata Poi vi mostrerò Nel prossimo video Dedicato appunto Alla nuova Risistemazione Alla nuova Riorganizzazione Della collection Qui abbiamo Un piccolo store Dei miei campioncini Abbiamo questo Foundation Di Yves Saint Laurent Che ancora non ho provato È il All Hour Foundation Anche perché la colorazione Non è chiarissima È un pochino più scura Quindi la proverò Sicuramente Quest'estate Ho anche Questi due Tester Di Rossetti Chanel Abbiamo questa tonalità qui E questo rosso Stupendo In realtà Non so Se li voglio Veramente utilizzare Mi piacciono davvero Talmente tanto Questi piccoli pack Così Questi libretti Non so Per una Per una collezionista Di make up Questi sono dei prodotti Che potrebbero rimanere lì Per sempre E non essere utilizzati Solo per la bellezza Che hanno Fatemi sapere Se anche voi Avete questo genere I problemi Qua sotto Nei commenti Ho anche questi due Fondotinta Di Clinique E la tonalità È ivory Quindi in realtà Io li potrei Già utilizzare Questi fondi Ma sono qui Per il semplice fatto Che Ho dei fondotinta Aperti E quando saranno Andrò ad aprire Questi In modo Testare Stare nuovi fondi Poi abbiamo Di Diego Della Palma Questo rossetto In stick Che è una bomba Ragazze Io l'ho già provato Un po' di volte Ed è un colore Stupendo Davvero bellissimo Forse non rende Spostiamoci un po' Per farvelo vedere meglio A me piace tantissimo Comunque È un rosa malva Vedi non rende Perché sembra scuro Ma non è così scuro Ho dei problemi Con le luci Ragazze Comunque questo colore È davvero molto 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 Bello Mi piace tantissimo Poi abbiamo Un po' di Mascara I mini size Questi sono perfetti Per quando viaggio Perché non occupano Spazio E comunque sono tutti Mascara Che so di adorare Abbiamo il Better Than Sex Mascara Di Too Faced Poi abbiamo Di Givenchy Questo Che è il Black Disturbia Un fantastico Ma fantastico Mascara Però ragazzi Non è waterproof Quindi Vi basta una goccia Di lacrima O uno sbadiglio Per trovarvi Un po' la faccia nera Non mi era piaciuto Molto questo Il Bad Girl Band Di Benefit Questo qua È anche lui Un mascara Stra-rinomato E piace a tutte Però boh Io non so perché Non mi ci sono trovata così bene Sembra che mi impasta Un po' le ciglia E poi Il Daily Real Sempre di Benefit Al quale purtroppo La scritta Real Si è un po' cancellata Chissà come mai Poi si è cancellata Solo questo pezzettino qua Perché qua si legge Perfettamente tutto Vabbè Comunque sono tutte cosine Che utilizzo Esattamente come questo Il The Vista Laurent Che se conoscete La mia collection Lo avete già visto Da una parte c'è appunto Questo Rossetto Rosso Il numero 12 saten E poi abbiamo anche Questo Questo prodotto Shiny Questo è un lip twist È un prodotto Che loro vendono Sembrerebbe una mini size Ma ragazzi Questa è una full size Infatti è un po' Buttare via soldi Però vabbè Sapete voi Che spesso Ho fatto questa cosa Specialmente in passato Di sfogare le mie Rabie e frustrazioni Sui prodotti Quindi ho acquistato Anche lui Che non avrei forse Devuto acquistare Qui sotto poi ragazzi Ho questo cassettino Da quale penso Non andremo a declatterare Nulla Sono tutti prodotti labbra Idratanti Allora abbiamo Ve li mostro molto velocemente Questo che è di Primark Ed è buonissimo Perché è al Cosmopolitan Cioè un lip balm Al Cosmopolitan L'ho usato anche Questo tantissimo Questo invece Sa di Macarones Ed è Della Azienda More Infatti si chiama Lip Macaron Apple Perché Tipo era mela E Macaron Buonissimo Quest'altro Strawberry Molto buono Di Bomb Cosmetics Anche questo qua È veramente Fantastico Questo per quando Ho problemi Le labbra Tipo herpes O roba del genere È un prodotto A base di canapa Ed è il Canabalm Di Pura vita E questo ve lo consiglio Davvero Sia questo Che altri Che altri prodotti Di questo brand A base di aloe Sono davvero Molto molto validi Di una vecchia collezione Di San Valentino di Chico Poi ho anche questo Che è il Love Kiss Ed è un Balsamo labbra Che le tinge Molto molto Di rosso Stessa cosa Vale Per questo labello Che ho ottenuto appunto A distanza dagli altri Burro cacao Perché Perché è appunto Un labello Burro cacao Però è un cherry shine Quindi ti dà questo effetto Ciliegia Brillantinosa Della linea Kiss Me Di Beauty Spa Ho questi due prodotti Che utilizzo in combo E sono per la mia skin care E sono per la mia skin care serale Questi li utilizzo tutti i giorni Ormai da Un bel po' Infatti Sono Qui Qui per finire Il siero Questo appunto È un siero Questo è un siero Al base di acido Yaluronico Yaluronico Si chiama Yalulift Yalulift 3D E questo invece è un balsamo Per il volumizzante Un balsamo volumizzante Volumizing lip care Questi sono prodotti Con i quali mi trovo benissimo E rimangono qui Poi andiamo veloce Ho quest'altro balsamo labbra Di Clarin Un po' di labello E in ultimo Questo che è Il Glossy Kiss Di Essence Che però in realtà Non è Cioè non è un Un lip gloss Ma è un lip balm Come vedete è anche scritto In realtà Non so se lo leggete Ma penso di sì Piccole cosine occhi Ho questi patch Di Primark Al cetriolo Sono perfetti Per quando Ho gli occhi gonfi E Sono made in Corea E vi consigliano Di tenerli in freezer Io infatti Prima di andare a applicarli Li metto in freezer Un'oretta Poi ho anche Questo tester Di Maschera Per gli occhi Di Shiseido Che devo ancora provare E quindi rimane Insieme ai prodotti Occhi Qui ho Due Prodotti Che in estate Mi salvano Sempre tantissimo Di Elena Rubinstein E sono Le Tinted Sun Gel Nella tonalità 01 e 02 Praticamente È un prodotto Che sembra Un fondotinta Ma in realtà È un prodotto Che va a intensificare L'abbronzatura E a dare un effetto Più Omogeneo A tutte le abbronzature Quindi questo Ve lo consiglio Ce l'ho Nella tonalità Appunto Golden Sunrise Che è la 01 E Golden Sunshine Che è la 02 Io li utilizzo Non solo sul viso Ma anche sul decolleté Sul resto del corpo Come le gambe Le braccia Voi sapete ragazze Di cosa vi sto parlando Vero? Poi qui abbiamo Questo cuoricino Carino Che avevo preso Dall'Aliexpress Per lavare i pennelli occhi Maschere Ho messo quasi tutte le mie maschere Allora Una maschera che adoro È sicuramente La Glow Mud Mask Di Pixi È una maschera Veramente buonissima Vi consiglio a tutte Di provarla Esattamente come questa Di Revolution Makeup Della linea Better Skincare Better Makeup Ed è la Hyaluronic Acid È una maschera Overnight Quindi da indossare La notte Però poi C'è scritto Di andare a sciacquarla Dopo 20 minuti Dall'applicazione Quindi in realtà Questa cosa Mi ha un po' Forviata Quindi è una maschera Da fare la sera Però Non va tenuta Tutta la notte Comunque Che questa maschera È rimpolpante Super Idratante Per la pelle Ve la consiglio tantissimo Poi ho quest'altra Di Erbolario La Tiaree Ricca Ricca fusione Profumata Per capelli e corpo Praticamente È una maschera Idratante Per i capelli E per corpo Io la utilizzo Sui capelli Quando sono per Sono Esageratamente Secchi E la utilizzo Anche sulle Ustioni O sulle abbronzature Quando appunto Mi faccio la doccia Dopo aver preso il sole In modo da rinfrescare La pelle Poi abbiamo Queste due maschere Di Avon Con il quale Mi sono trovata Molto bene Le sto abbastanza Tipo Cercando di finire Velocemente In realtà Sono A base di olio D'oliva E sono Delle maschere Idratanti Della linea Planet Spa Appunto Di Avon Poi ho iniziato Da pochissimo Non fate caso Come tengo I pack Delle cose Ma ho perso Il tappo Anche di questo Io perdo i tappi Di ogni cosa Sappiate E Questa qua Invece È la Seta Blue Prestige L'azienda È la Black Mask Peel Off Questa è Una maschera Che ho trovato In vendita Da Iper All'in questo periodo Appunto Di quarantena E La sto utilizzando Una maschera Detox Al carbone Naturale Niente di che È una maschera Appunto Di quelle Peel Off Per rimuovere I punti neri E le impurità Un po' di maschera In tessuto Poi abbiamo Questa Che è La Fantasy Mask Di Mask Bar Ed è appunto Una maschera Calmante Perfetta Per quando magari Vado a fare Peeling O Per fare Appunto Trattamenti Di questo tipo Abbiamo ancora Poi questa Che è La The Primer Mask Di Sephora È una maschera Che va utilizzata Appunto Prima Di truccarsi Va tenuta A tre minuti E dà un effetto 5 in 1 Al Makeup Primer Ed ha appunto Un effetto Di primer Da utilizzare Appunto Sotto Al nostro Makeup Ultima Che vi mostro Ma non per importanza Sempre di Seta Blue È questo Siero È questo Siero Anti-Age Con oro 24 carati Che è Adatto Appunto Anche per Chi come me Non ha Bisogno di fare Una correttura Delle rughe Ma una prevenzione Di quelli che sono Soprattutto Le linee D'espressione Perché a 26 anni Le linee D'espressione Si iniziano a marcare E quindi Sto scegliendo Di prodotti Un po' più intensivi Per quanto riguarda La mia skin care Queste maschere Rimangono tutte Appunto Perché non Non mi sembra Di doverle eliminare O declattare Sono Quasi tutte Piene Tranne appunto Questa Queste due Che sto cercando Di strizzare Il più possibile E finire completamente Perché come vedete All'interno Ce n'è ancora Però Te passiamo A questi Laterali Nel primo Qui ho prodotti Che mi usano Che uso Praticamente tutti i giorni Abbiamo L'Hidra Vegetal Acqua micellare Di Zorosce Un prodotto Che mi ha regalato Il mio ragazzo Mi ha fatto scoprire Per Natale È una confezione De 200 ml Che ho utilizzato Tutti i giorni Da Natale Fino adesso E quindi è un prodotto Che assolutamente Vi straconsiglio Io l'ho adorato E Penso proprio Che andrò A riacquistarlo Di Fior di Magnolia Poi abbiamo Lo struccante bifasico Questo è uno struccante bifasico Che si compra Da Eurospin Fior di Magnolia È un brand italiano Di skin care E make up Rivenduto da Eurospin Io vi consiglio Di provare Questo struccante bifasico Perché è l'unico Che io utilizzo E con il quale Mi trovo bene Poi qui ho una crema Anche per il mio ragazzo Che ho qui da parte E lui non l'ha mai utilizzato Penso che rimarrà qui Sempre di Fior di Magnolia Ho solito di provare Anche questa crema A viso Lifting Penso che non leggerete Quello che c'è scritto Sul pack Perché riflette Tantissimo la luce Comunque in realtà Qui l'ha scritta Argentata Il pack è davvero Molto carino E la crema È a questo punto L'ho utilizzata Ma non così tanto Non è una crema Che utilizzo Tutti i giorni L'utilizzo specialmente Quando devo andare A fare dei make up Un po' importanti O comunque devo portare A indossare il make up Tutto il giorno Perché questa mi permette Di avere una base Più levigata E liftata In ultimo Ma non per importanza Di certo Abbiamo il mio amatissimo Clinique Take the day off Che è un cleansing balm Quindi un balsamo struccante E questo è pazzesco Ragazzi Strucca qualsiasi cosa Anche i trucchi di Halloween Il sangue finto Questo ve lo consiglio Dovete assolutamente averlo Passiamo a un cassettino Che va declatterato parecchio Ragazzi Almeno così sembra Purtroppo qui dentro c'è Il mio stiro La vitamina C Di Stomer Che è terminato E quindi va declatterato Gli possiamo dire addio Abbiamo anche Di Pixi La Rose Flash Balm Che è una crema viso Che ho utilizzato davvero tantissimo E che adoro E non vedo l'ora Di riacquistare dal brand Spesso vado a acquistare Pixi Per quelli che Per quelli di voi A cui potrebbe interessare Da Look Fantastic Dal sito Look Fantastic Sul quale vengono rivenduti Spesso con anche Degli sconti Molto interessanti Ho una Opto Red Un prodotto che utilizzo Per gli occhi rossi Poi abbiamo anche La mia mini size Del Glow Tonic Di Pixi Questo appunto È sempre Il tonico Esfoliante Con acido glicolico Al 5% Questa è la versione Da viaggio Ed è quello che utilizzo Appunto quando viaggio Cioè non più in questo periodo Però viaggio Di Origins Mi sono anche trovata Benissimo Con questa Maschera Purificante Clear Improvement È a base di Carboni vegetali E l'ho provata E mi sono trovata Davvero molto bene Farsali Perché è qui dentro Vado a metterlo insieme alle basi Qui poi abbiamo Queste mini size Di creme di brochet Che sono ancora piene Devo ancora provare Qui abbiamo poi La Trinity di Mulac Che avevo Chiesto da Pinalli Di lasciarmi Un campioncino Ce n'è ancora dentro Un po' Penso proprio che andrò A acquistare anche La full size Di questa crema 3 in 1 Perché ha anche Un primer È veramente stupenda Poi ho Defendant Hydra Matte Di Bionic Penso che questa crema Che mi hanno lasciato Questo campioncino Di crema che mi hanno lasciato In farmacia Lo andrò a utilizzare Quest'estate Per vedere un attimo Appunto Nelle giornate Un po' più problematiche Qui ho Un unguento oftalmico Che serve appunto Per quando mi vengono Strane infezioni agli occhi Cosa che succede spesso Perché appunto porto Lenti a contatto Confezioncino Delle lenti a contatto Di Chameleon Magic Serum Ho provato anche Questo siro Erano In realtà nel pack Erano 10 Questo è l'ultimo Che mi rimane Ed è un siro Liftante per gli occhi Che fa proprio Quell'effetto Che si ottiene Solo con i tiranti Quindi in realtà Io questa azienda Ve la consiglio Sappiate che sono Dei prodotti Però abbastanza costosi Abbiamo anche Che sto finendo L'Aqua Glow Super concentrato Di Bioderm Che questa È fantastica La comprerò sicuramente In full size Ed è buonissima E poi devo ancora provare L'Aqua Bounce Super concentrato Con acido Ialuronico E glicerina A questa Devo ancora testarla Poi abbiamo Di Dior Leaf Purtroppo Questa mist In spray Piccolissima Che era da testare Che ho provato E che mi è piaciuta Molto Poi ho Questo siro a base Di peptina Di Dr. Jart Che sto testando E con il quale Mi trovo davvero Molto bene Mi hanno lasciato Il campioncino Da Sephora Sempre di Bioderma Poi abbiamo Anche l'Aqua Search Questo è appunto Un siro da utilizzare Sotto a questi Anche questo è davvero Un prodottino Fantastico Di Dior Poi ho un'altra Confezione di Leaf Che è appunto Questa Sorbet Water Mist Quindi è una mist Più che uno spray Fissante Però è veramente Fantastico E poi ho Questo qui Che è Non lo so Un altro campioncino Che mi hanno lasciato Che non so cosa sia Comunque queste cose Rimangono tutte qua Perché appunto Le sto ancora testando Tutte Quello che abbiamo Decazzerato È questo E nell'ultimo cassetto Abbiamo Un po' di cosine Per gli occhi Tra cui un'altra Scatoletta per lenti Questo gel Al acido Ialuronico Idratante Di Nakomi Che vi consiglio Ve ne ho parlato tantissimo Anche Sulla mia pagina Instagram Se ancora non mi seguite Sulla pagina Instagram Qui sotto Nella descrizione Trovate il link Alla mia pagina Questa crema Ve la consiglio Moltissimo Come voglio anche Consigliare Di The Ordinary Il vitamin C Suspension 30% In silicone Questa crema È a base di vitamina C E non contiene acqua Quindi Non va a modificare Quello che è la struttura Della vitamina C Perché ho scoperto Recentemente Che la vitamina C In acqua Diventa Cambia Ha delle mutazioni Poi abbiamo Altri due campioncini L'antiage global Di Vrocher Che è appunto Una crema giorno E di CBN Trattamento alle cellule germinali Vegetali Che serve a ristabilire Il normale Equilibrio della pelle E queste sono tutte cosine Che andiamo a tenere E come potete vedere Anche il decluttering Di oggi È stato Bello proficuo Abbiamo eliminato Un bel po' di cosine Dalla mia collection Ed è anche L'ultimo dei decluttering Appunto Per questo periodo Poi sicuramente Ce ne saranno altri Non vi preoccupate Torneremo sul canale Con altri decluttering Quando la mia makeup collection Diventerà di nuovo Un casino Quindi immagino Fra un 5-6 mesi Neanche poi così tanto Stanca Molto stanca Ma felicissima Del risultato Anche del decluttering Di oggi Bellini Fatemi sapere Qui sotto nei commenti Cosa ne pensate Di tutti questi video De decluttering E se vi siete persi La serie di decluttering E vorrete recuperare Le scorse puntate Le trovate qui sotto In descrizione E qui sopra Nelle informazioni Vi ricordo che Il prossimo video Dedicato appunto A questa serie Sarà La collection E tutta la postazione Come sono andata A riorganizzarla Quindi ricordatevi Di iscrivervi al mio canale Per non perdervi appunto Nessun nuovo video Attivate anche la campanella Io vi mando Un mega bacione Grazie di essere stati qui con me Fino adesso Anche oggi E ci vediamo Martedì Con il prossimo video Ciao bellini Ciao a tutti